Riparti alla grande con Amazon Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi sono qui con la piccola bucle perché stavamo guardando delle cosine da comprare per questa piccolina e sapete perché? Perché dal 2 al 9 settembre su Amazon c'è il riparti alla grande cioè la grande promozione di settembre che riguarda il back to school quindi il ritorno a scuola e tutte le categorie più disparate di prodotti che Amazon offre A noi interessa soprattutto il comparto belle arti colori e quindi ragazzi come faccio sempre quando ci sono le super offerte Amazon vi lascio qui giù in infobox una selezione di prodotti che penso possano esservi utili pennarelli, penne dal tratto sottile, fluido, delle tavolette grafiche ho visto tante cose interessanti adesso mi spulcio ben bene tutti i prodotti e tutto quello che penso possa aggiovare alla nostra creatività lo allego qua sotto ho visto anche degli interessanti set di matite colorate degli interessantissimi set di matite di gamma B e HB set da disegno insomma ve li metto tutti qui giù in infobox in più ai genitori che mi stanno sentendo voglio anche far sapere che su Amazon è possibile io non me ne ero accorta, me l'ha detto Gabriele anche acquistare i libri di testo io infatti ho acquistato i libri di testo di Enzo e mi arriveranno a breve con pochi clic basta entrare sul sito Amazon basta cliccare sul tools che riguarda appunto l'acquisto dei libri si inserisce il nome della scuola e automaticamente vi appare la lista dei libri che la scuola richiede e lì potete selezionare i vostri dopodiché su un acquisto minimo di 20 euro riceverete un buono di 5 euro da poter spendere in altre cose su Amazon quindi insomma è un modo per riprendere un po' di quello che si spende tra l'altro comodissimo vi arrivano fino a casa niente file dal libraio e un grande risparmio e c'è anche la possibilità di fare donazioni alla scuola sull'acquisto sapete che si può dare una percentuale a una scuola per comprare determinate magari forniture che la scuola poi mette a disposizione degli studenti bene con Amazon si può fare anche questo quindi dal 2 al 9 settembre non vi fate scappare le offerte del back to school e le offerte del riparti alla grande in modo tale da poter godere poi per tutto l'anno scolastico degli acquisti fatti a meno prezzo in questo momento questo non è un video spinto all'acquisto questo è solamente un avviso perché vi ho fatto tempo fa un video simile ho visto che vi è molto interessato l'ho visto dalle visualizzazioni che ha avuto e quindi qui giù in info box tutti i prodotti che ho selezionato per voi ci sono pennarelli ci sono matite ci sono anche le fustelle c'è anche la big shot in offerta in questo momento se desiderate da tanto la big shot è il momento magari di acquistarla potete anche portarvi avanti con i regali di Natale cari mariti se sapete che vostra moglie è interessata alla big shot questo è il momento di regalargliela sappiate che di giorno in giorno le offerte cambiano quindi spulciate tra il back to school e le offerte del giorno andate a cercare proprio questa dicitura perché ci sono degli ulteriori sconti di giorno in giorno su determinati articoli bene penso di avervi detto tutto vi lascio tutti i link qui giù in info box se dovete farlo fate un buono shopping se non dovete farlo niente non è una spinta all'acquisto è solo un avviso per chi mi segue io adesso vado a fare il mio mini shopping su amazon quindi ho reputato opportuno condividere sui miei tre canali le varie categorie di cose che più interessano alle varie fasce argomentative a noi interessa la creatività quindi ripartiamo alla grande con creatività e con qualche sconto che male non fa noi ci rivediamo sempre qui per un prossimo video creativo da Ombretta e da Arte per te è tutto alla prossima volta ciao